Amici di Youtube, bentornati da Marco Ligori, avviso importante che ora questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente un nuovo, cioè di vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Ligori Amici di Youtube, in estate non abbiamo fatto altro che parlare del grande ritorno di Lorella Cuccarini in Rai, Lorella Cuccarini con Alberto Matà, è l'attesissima e apprezzatissima conduttrice della vita in diretta e fino a qualche settimana fa c'era un hype molto alto per l'ex conduttrice, peraltro di Buona Domenica e Paperissima ve li ricordate, programmi che conduceva con il sole unico Marco Columbro che è stato anche ospite della vita in diretta insomma, cari amici di Youtube, sembrava il quadretto perfetto Alberto Matano e Lorella Cuccarini ci convincevano davvero tanto per la conduzione e in estate ne abbiamo parlato praticamente ogni settimana purtroppo la realtà è un'altra cosa, la realtà ci dice che gli indici di ascolto della vita in diretta sono molto bassi per dirla in parole povere, la vita in diretta sta prendendo le scopole da Barbara D'Urso dalla controparte, pomeriggio 5 e quindi i soliti maligni già ipotizzano un cambio alla conduzione a lasciare potrebbe essere Lorella Cuccarini, quindi davvero una brutta notizia perché Lorella Cuccarini al primo canale di Marco Licuori piace davvero tanto davvero sono un nostalgico e ricordo con grande enfasi Buona Domenica e Paperissima, programmi condotti dal duo Lorella Cuccarini e Marco Columbro un periodo storico della televisione italiana, anni 90, primi anni 2000 sfortunatamente i tempi sono cambiati e Lorella Cuccarini ha dovuto fronteggiare un inizio davvero difficile un inizio che l'ha vista perdere contro Barbara D'Urso, pessimi gli indici di ascolto per la vita in diretta molto buoni gli indici di ascolto di pomeriggio 5 che quest'anno sta facendo man bassa di ascolti non sappiamo se sia soltanto un cambio di preferenze da parte degli italiani che l'anno scorso con il duo Timberi-Fialdini sembravano preferire la controparte di Rai 1 fatto sta che la vita è indiretta dal punto di vista dell'indice di ascolto mai così male, come quest'anno e come detto c'è anche chi ipotizza un possibile cambio alla conduzione un possibile cambio che riguarderebbe Lorella Cuccarini, voi cosa ne pensate? scrivetelo nei commenti vi ricordo che su questo canale dice il concorso del commento del giorno il commento più bello viene letto dal sottoscritto e l'autore del commento viene salutato da me di fronte a migliaia di italiani io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale è molto semplice, vi basterà semplicemente cliccare il tasto iscriviti in basso a destra attivate la campanella anch'essa in basso a destra e vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo io vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per il vostro inestimabile tempo che avete dedicato alla visione di questo video vi auguro un buon proseguimento su Youtube e vi ringrazio per il vostro inestimabile tempo Grazie.